Esce Marchese ed entra Merino. Merino accolto da una vera e propria ovazione. Ora c'è Merino. Allarga sull'estero per Iunco. Ancora Merino. Pallone in aria per Di Napoli. Scurto. Merino. Evita l'avversario. Ancora Merini. Merino. Il lancio in proponità. Il tiro. E no! Ma Di Napoli cosa fai? Sbaglia un calcio di rigore Di Napoli. Ancora su un passaggio esaltante di Merino. Di Napoli sbaglia la più ghiotta delle occasioni. Mandando alle stelle l'opportunità del vantaggio. Marinelli ancora la sedana con Fatic. Superba la sua prova. Iunco. Iunco davanti a Seismitti. Iunco. Ancora Iunco. Il pallaggio al pallone. All'indietro. Il tiro di Merino. Che sbaglia. Prima c'è stato il controllo fuori. Controllo errato di Scarpa. Rivediamo la splendida azione di Iunco. Pallone per Scarpa che stoppa male. Poi Merino al volo. Tenta il tiro di sinistro. Serendo a lato. Ed è pronto ad entrare in... Ma guadagna solo un calcio d'angolo. Il quinto della serie. Per la sanità una demoralizzazione. Pubblico che... In questa fase non ci crede più. Il calcio d'angolo di Merino. La deviazione. E va bene. Scarpa. Piazza il pallone a fondo campo. Solo dinanzi alla porta. Manca anche quella dose di fortuna necessaria in questa fase. Un gran bel calcio d'angolo di Merino. Con Scarpa solo dinanzi alla porta. La sua deviazione di testa. La palla messa a fondo campo.